pancia e problemi di tiroide fegato grasso pancia e problemi di tiroide buongiorno bentornati su questo canale buongiorno models so che l'ultima volta alcune persone si sono offese perché ho detto basta guardare la pancia una persona per capire se insulino resistenza se ha qualche problema ma è la verità è assolutamente la verità in questo video andremo a capire come mai una pancia ci porta a un fegato grasso e fegato grasso ci porta problemi di tiroide molte persone possono avere dei problemi di tiroide magari non sanno perché non sanno come mai una causa e ho riportato anche uno studio anche se in realtà ce n'era la vasta scelta ce n'erano tantissimi e sono ben 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 relazionati con fegato grasso i problemi di tiroide sono relazionati con fegato grasso allora questa indagine questo 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 video parte dal fatto che in 15 anni che faccio il personal trainer che rimetto in forma le persone ho visto di come in realtà una persona quando dimagrisce quando abbassa gli zuccheri quando perde peso quando la pancia va via i problemi di tiroide migliorano l'energia della persona migliora ma proprio sopra riguardo al discorso tiroide succede che la persona migliora spariscono i sintomi la persona dorme meglio la persona più energie eccetera eccetera perché la tiroide inizia a funzionare meglio qui è il punto la maggior parte della conversione del degli ormoni tiroidei quando esattamente allora questa cosa l'ho già ripetuta ma la ripetiamo la tiroide che è un organo che è qua proprio sul collo stimolato dal tsh riceve uno stimolo produce un ormone che è il t4 il t4 è inattivo non ha un impatto sul metabolismo deve essere convertito in t3 questa conversione attraverso un enzima avviene proprio nel fegato quando c'è un fegato grasso questa conversione da t4 in t3 viene con più difficoltà viene meno ecco che quindi inizia ad avere quello che un ipotiroidismo subclinico dalle analisi più o meno va tutto bene sono dentro il rage ma non sta avvenendo una buona conversione di t4 in t3 e il t3 è quello che realmente decide il mio metabolismo decide se quello che mangio verrà consumato o verrà immagazzinato quindi è decisivo alla volta in cui vogliamo dimagrire sistemare la tiroide il fegato grasso perché dico che basta vedere la pancia a volte ci sono persone magre con pancia che possono avere tutta una serie di sintomi e problemi di energia magari non hanno problemi di sovrappeso però comunque possono avere stanchezza possono avere cattiva qualità del sonno e la cattiva qualità del sonno è dice moltissimo e una cattiva qualità del sonno è proprio per una mancanza di energia molte volte una mancanza di ossigeno che mantiene la persona il sistema nervoso in allerta e quindi non la fa dormire migliorando tutte queste cose di cui parlo nel canale migliorando il metabolismo migliorando l'alimentazione abbassando gli zuccheri noi riusciamo a stare meglio riusciamo a dimagrire riusciamo ad avere più energia riusciamo anche a sistemare i problemi di tiroide perlomeno alcuni chiarito questo cerchiamo di capire la sequenza esatta con cui succede poi un fegato grasso primo fattore tra tutti deve esserci un glucosio alto quindi deve esserci un eccesso di zuccheri nel sangue che può essere dall'alimentazione ma può essere anche dallo stress infatti tante volte si dice problemi di tiroide per lo stress è vero lo stress tra le tante cose una cosa che fa è aumentare il cortisolo che mi aumenta i livelli di zuccheri nel sangue li prende direttamente dal fegato e li butta nel sangue quindi comunque c'è un eccesso di glucosio anche se la maggior parte dei casi al giorno d'oggi è perché mangiano troppi zuccheri pasta pane avena riso frutta che non vuol dire che bisogna alcune si bisognerebbe eliminarle proprio ma c'è un eccesso di questi alimenti vengono dati per il 65 per cento come normale quando normale non è perché basta vedere quanti problemi ci sono quindi un eccesso di glucosio primo fattore mi fa un fegato grasso ancora prima di farmi venire la pancia quindi perché mi venga la pancia devo avere un eccesso di glucosio inizierò ad avere un fegato grasso magari a 18 anni no però a 30 sì perché il corpo soccombe però poi a un certo punto inizia a presentare i conti quindi fegato grasso inizierò ad avere grasso addominale e proprio per quello che abbiamo detto prima inizierò ad avere problemi alla tiroide c'è stato uno studio ma ripeto ce ne sono stati tanti nel 2012 il titolo lo mettiamo qua in sovraimpressione se volete andare a vederlo le conclusioni furono che il 70 lo studio fu fatto su 4.800 persone 2400 con fegato grasso 2400 che non avevano fegato grasso e non per questioni alcoliche quindi hanno distinto bene questa cosa nel gruppo che aveva fegato grasso aveva il 70 e 71 per cento in più di probabilità di ipotiroidismo quando appunto c'era già un fegato grasso quindi è stato chiaramente dimostrato la correlazione tra fegato grasso e ipotiroidismo quindi cosa fare per abbassare gli zuccheri iniziare ad avere una tiroide che funziona meglio due consigli il primo già ripetuto tante volte ma importante prendere un glucometro questo attrezzo è di libera vendita iniziare a vedere che livelli di zuccheri avete al mattino a digiuno dopo due ore da un pasto magari che l'italiano medio mangia pasta no pasta è generalmente uno degli alimenti aggressori principali ma non lo sanno fin tanto che non lo misurano questo è di libera vendita qualsiasi persona ne ha diritto ed è un valore importantissimo perché i livelli di insulina che sono esattamente correlati a quanti zuccheri mangiamo sono i livelli di insulina prodotti in una persona più ne produce più si accorciano le probabilità di longevità e aumenta il rischio di malattie di tutte le malattie quindi mantenere bassi gli zuccheri e mantenere i livelli di insulina bassi è importante non solo per ottenere il fisico che vuoi dimagrire non ingrassare ma soprattutto anche per una questione di salute questo primo consiglio c'è un episodio che non mi ricordo ma lo mettiamo qui dove parlo proprio di come prendere bene questo valore il secondo consiglio è che il corpo funzionerebbe benissimo ma a volte ha un padrone ignorante quindi studiare questo è l'ultimo librone che è uscito che in realtà è una è una come come è che io lo chiamo un manuale un manuale e quindi non proprio un libro anche se sono 300 pagine ma è proprio un manuale che include tutte queste le abbiamo unite abbiamo fatto uno e è veramente un percorso per il ripristino del metabolismo include soprattutto una guida che qui non c'è che è la libertà alimentare la libertà alimentare risolve abbondantemente questo problema applicando la libertà alimentare quindi non avendo le quantità non avendo le grammature non dovendo pesare le cose non avendo i macro libera ma secondo natura quindi con alimenti che non ci fanno male noi ci rimettiamo in forma torniamo a stare bene la tiroide inizia a funzionare bene quindi gli step sono glucometro ne consegui uno e poi puoi fare i tuoi test provarlo eccetera due se non vuoi prendere questo librone che attualmente c'è fisico e lo spediamo a casa puoi prendere la libertà alimentare in formato digitale iniziare subito la libertà alimentare all'interno un menù completamente libero perché uno stile di vita e non una dieta io sono luca veronese esperto in strategie bruciagrassi e metabolismo lento e questo di oggi era il video importante sul fegato grasso e tiroide iscriviti al canale o condividilo con persone che possono avere questo problema e noi ci vediamo alla prossima